il campionato spagnolo, la gloriosa formazione del Real Madrid, possono partire le immagini per questo confronto tra antichi maestri del calcio europeo, Uipers-Doscia, cioè ungheresi e spagnoli del Real Madrid, arbitrava Delia, attenzione all'azione del gol, cross verso Santigliana, il Real Madrid aveva vinto all'andata per 3-1, vince fuori casa per 1-0 e quindi si qualifica con pieno merito e con tutti i crimini, rivediamo l'azione che si sviluppa sulla destra con questo cross al centro, su cui il centroavanti Santigliana non fu un grande protagonista al mondial di Spagna, ritrova invece il suo vinto vincente, passa il Real Madrid che vince per 1-0. Successivamente Uipers-Doscia cerca quanto meno di salvare la partita, ormai la qualificazione è impossibile, va vicino al pareggio, prende un passo.